Continua a ripetersi lo zero nella casella delle vittime da coronavirus a Prato, che restano ferme a 44, con nessun decesso dall'inizio della settimana. È quanto si rileva dal quotidiano bollettino della Regione che fa il punto sull'emergenza sanitaria alle 12 di oggi rispetto alle 24 ore precedenti. In questo arco di tempo sono stati tre nuovi positivi nella provincia di Prato, 546 il totale dall'inizio dell'emergenza, mentre in Toscana si contano complessivamente 30 nuovi tamponi positivi sui 4.186 analizzati da ieri. Sette dei nuovi casi sono conferme di positività emersi attraverso la campagna di test seriologici avviata dalla Regione Toscana a partire dalla fine di aprile. A livello regionale si registrano nove nuovi decessi, quattro uomini e cinque donne con un'età media di 74 anni. Si conferma insomma il trend che va avanti ormai da molti giorni, con sempre meno contagiati e anche il numero delle vittime in calo rispetto ai giorni più bui dell'epidemia. In tutta la Toscana salgono a 9.859 i casi di positività al coronavirus, ma quelli nuovi sono appena lo 0,3% in più rispetto al totale di ieri. I guariti crescono del 3,7% e raggiungono quota 5.498, il 55,8% dei casi totali. Complessivamente ad oggi risultano ancora positive in Toscana 3.388 persone, di queste 3.051 sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, mentre sono ricoverati in ospedale 337 pazienti, 19 in meno di ieri, di cui 68 in terapia intensiva, meno 4 rispetto a ieri.